Dopo i voli pindarici conseguenti allo storico esplasso il Chieti, il porto inciampa sulla classica buccia di banana che nella circostanza assume le sembianze di una folgore sambuceto cinica e spetata che capitalizza al meglio le sporadiche occasioni da rete, al contrario di un porto sciupone e poco efficace in chiave offensiva. Se in avvio il tiro di Zachini sfila a lato di ben altro tenore è la risposta bianco-rossa che al primo tiro in porta acciuffa l'inaspettato vantaggio. Dopo il fallo dal limite di Febo ai danni del giovane Mucci il signor Di Ludovico assegna il calcio da fermo da posizione assai interessante, Mimola alla battuta lascia di stucco il malcapitato di Giacomo sbloccando il risultato per i suoi. Il porto prova una timida reazione che si concretizza con la girata di Cichella facilmente controllata dal bravo Segalotti e con due opportunità sciupate in malo modo da Vaira, dapprima con un diagonale in corsa che sfila a lato e in chiusura di frazione con un pallone rubato a tiriticco ma calciato su Segalotti in uscita. Prima frazione che si chiude pertanto con il vantaggio ospite che regge bene al ritorno dei biancazzoli di casa i quali subiscono il colpo del KO in avvio di ripresa. Passano appena tre giri di lancetta e la folgore perviene al raddoppio grazie al promettente Mucci che finalizza al meglio la pennellata di Mimola infilando Di Giacomo con un beffardo tunnel che spalanca la porta al gol che chiude in pratica ogni discorso. Il porto ha poco dopo una ghiotta opportunità con Zacchini la cui bordata viene dirottata in corner dal miracoloso intervento di Segalotti. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Mambella prova in vano a ribadire in rete. Al ventesimo Vaira in becca Cichella che fallisce una colossale occasione calciando al lato da posizione leggermente rifilata. Tre minuti dopo gli ospiti reclamano il penalty per una presunta trattenuta in area di capitano Straccialini ai danni di Mucci. Il direttore di gara non ritiene falloso l'intervento e lascia quindi proseguire. All'altezza della mezz'ora Cichella spara le ultime cartucce con questo tiro di certo non trascendentale che viene bloccato in scioltezza da Segalotti. Nei minuti di recupero segnaliamo il risveglio della folga. Da prima con Rullo e infine con Mimola il quale prova lo sfondamento dalle corsie laterali. Di Giacomo fa buona guardia in entrambe le circostanze. Pochi secondi prima del triplice fischio Cichella e Cardinale hanno anche il tempo per beccarsi sotto lo sguardo dell'attento di Ludovico il quale estrae per entrambi il cartellino rosso. La folgore che si conferma bestia nera del porto centra tre punti importanti per la rincorsa alla zona playoff mentre i biancazzuri del presidente Paluzzi che fanno il passo del gambero dopo l'illusorio successo di sette giorni fa col Chieti devono rimboccarsi le maniche per uscire definitivamente dalle zone calde della graduatoria. Mister Di Michele, la folgore San Buceto si rivela come sempre la bestia nera del porto. Anche l'anno scorso avevate conquistato tre punti qui al Gesuiti. Sì effettivamente contro il porto sono due anni che facciamo delle belle partite. Oggi siamo stati un pochettino avvantaggiati dal fatto che Tommaso ha trovato una punizione eccezionale, ci ha fatto partire sull'1-0 poi è sempre dura rimontare una partita. Secondo lei il porto ha pagato lo scotto del successo prestigioso con il Chieti? Beh no, il porto è una buona squadra, hanno giocato anche oggi, hanno fatto una buona partita. Ripeto, quel gol di Mimo ci ha fatto partire dall'1-0 per noi e poi diventa difficile per tutti quando sta 1-0. Non abbiamo capito le espulsioni nel finale, ci può chiarire lei? Ma onestamente questo non l'ho capito nemmeno io, forse si sono dati qualche gomitato, non l'ho capito bene alla fine cosa è successo onestamente. Per la Folguera adesso si aprono nuovi scenari? Ma no, 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 per noi siamo partiti quest'anno che volevamo far bene, perché abbiamo una squadra che possiamo far bene. Per noi lo scenario è sempre vivere partita per partita e raccogliere il massimo ogni partita. Mister Dizio, dopo lo splendido successo sul Chieti all'Adriatico, si torna con i piedi per terra e nel porto tornano i soliti problemi. I soliti problemi sì, abbiamo fatto degli errori in difesa e siamo andati sotto senza volere proprio. Loro non è che hanno fatto granché, hanno fatto questa punizione di Mimola che ha trovato il jolly e da lì hanno fatto la partita, si sono barricati tutti dietro, non facevano rimbalzare una palla. Poi sopra questo campo è tutta un'altra musica. Domenica scorsa si giocava più a calcio, qua invece si giocava più a rugby che a pallone. Poi abbiamo costruito 4-5 occasioni, non siamo riusciti a metterla dentro. Quando vanno così le partite non puoi giocare anche tre giorni di seguito, non la riesci ad equilibrare. La situazione secondo lei può solo migliorare? Ma sì, sì, sì. Io sono convinto che ci salveremo tranquillamente. Soltanto voglio dai miei uno spirito più combattivo perché quando giochiamo contro queste squadre che pensano soltanto a picchiare, a rilanciare davanti, tutta un'altra partita non è come quella di domenica dove trovi una squadra che gioca al calcio e che ti lascia anche giocare. Invece questi si mettono là dietro, rinviano e ogni volta tu riprendi la palla devi fare l'azione, devi ricostruire, è sempre molto difficile.